salve a tutti ragazzi allora in questo video vi insegnerò a scaricare per idea del haste questo gioco qua è in inglese ma se qualcuno di voi è capace di tradurlo in italiano in ogni caso vi dico se vi piace il gioco quest'altro come lo dice inizio allora come in tutto scaricato il link in descrizione ero qua da qua noi dovremmo fare descarga torrent e apri che ci verrà fuori una roba di questo genere allora così tipo ecco tutti i file da estrella con riguarda e scaricato siccome il link in descrizione se non ce l'avete e li selezionati tutti come in questo caso non è questo qua comunque faccio un esempio il che è molto spesso dobbiamo fare questo e verrà fuori questo file qua che sarà un file ISO che dobbiamo montare con Dementor Slide oppure con masterizzandolo quindi quindi dovremmo trascinare qua e quindi montarlo la teniamo e dopo lo installiamo molto semplice dopo di che clicchiamo ecco qua dopo che clicchiamo il tasto esterno facciamo apri e dalla cartella crack l'apriamo dopo di che andiamo sulla cartella del gioco eh ecco qua in questa cartella qua dovremmo trascinare questi per qua dentro qua trasciniamoli mettiamo qua dentro a voi che potrete avviare il gioco con calma come volete ok funzionerà però in inglese se voi riuscite a cambiare la lingua me lo potete dire comunque lo capisco ringrazio molto chi mi aiuta ricordo che questo video ha quello scopo informativo ripeto a chi piacesse il gioco lo compri anche perchè è in inglese quindi mi conviene comprarlo vi saluto a tutti e ciao